Buonasera a tutti, con questa presentazione vorrei mostrarvi la ricerca che sto sviluppando in Università di Siena. Questo studio è stato finanziato per una Borsa europea per la ricerca che si chiamano Marie Skolodowska Curie, data per la Commissione europea per lavorare su un progetto di ricerca innovativo fuori del tuo paese di residenza. Io, come avevi notato, sono spagnola, mi chiamo Maria del Mar Castro e lavoro a Siena dopo l'inizio di 2019. Il progetto si chiama Ligustar, nuove tecniche archeologiche per un antico spazio ripario nel sud della Spagna che si sta sviluppando nel Dipartimento di Scienze Storiche e dei bieni culturali di questa università. Prima di tutto mi presento, già che non possiamo trovarci in persona. Sono la dottoressa Maria del Mar Castro Garzia, ho studiato storia nella Università di Cadice nel sud della Spagna e anche ho fatto il mio dottorato di ricerca nella stessa università e anche in Università di Laval in Canada. Il mio soggetto di ricerca è stato la gestione dell'acqua nelle città antiche dell'Andalusia romana. E anche sto lavorando qui, come ho detto, dopo il 2019 come ricercatrice Marie Curie. Ritornando sul progetto sul cui sto lavorando, il marco di studio è il sud della Spagna, il fiume Guadalquivir e la sua foccia nella vertente atlantica. Questo fiume attraversa l'Andalusia e ripresenta il più importante della regione. Anche in epoca antica era molto importante ancora di più, perché tutto il trasporto di merce si faceva attraverso il fiume e il mare. Qui in Andalusia, che si chiamava in epoca romana provincia abetica, si produceva olio d'oliva, un prodotto che come oggi era molto precioso e si conduceva a Roma. La foccia del Guadalquivir e il fiume Betis era diverso a oggi. Era un grande estuario con molte città nelle sue rive e anche altri insediamenti romani, minori, come Cavanne, Casa Errustica, Vila. Questo spazio oggi, come vedete, è molto trasformato, con alcune città attuali, che non so se potresti conoscere, come San Luca di Barrameda o Jerez della Frontera e al nord dell'antico estuario si trova la città di Sevilla, che è più celebre. Come vedete nella mappa, questo spazio soffre un processo di sedimentazione e si trasforma da un estuario a un delta e finalmente a un spazio con le maremme, tutto chiuso al mare. Di questo grande spazio abbiamo scelto un sito per analizzare e applicare lo studio. Il sito deve trovarsi sulla riva prossima alla foccia dell'antico estuario e deve essere una città antica importante. Noi abbiamo scelto la città di Evora, dove vogliamo studiare il materiale archeologico e applicare nuove tecniche archeologiche del rilevamento. Ci sono diverse tecnologie che ci permette di cercare delle strutture sotterrate archeologiche senza necessità di scavo. Questo sito è un'antica città della protostoria, celebre perché si è trovato un tesoro con pezzi di oro. Era situata nella riva dell'antico estuario e in questo periodo aveva comunicazione quasi diretta con il mare e anche un porto, ma in un certo momento, come conseguenza della trasformazione del paesaggio per causa della sedimentazione, ha perso questa connezione. Per questo noi vogliamo studiare il sito e il territorio circondante, dove si trovano delle altre siti antichi che possibilmente furono delle cavanne e piccole insediamenti agrari collegati a quella città importante. Per fare questo dividiamo il territorio in diverse zone e pianificiamo i lavori delle indagini archeologiche. Tutto questo si fa nel laboratorio di archeologia del paesaggio del rilevamento. È un laboratorio con molta tradizione nello studio del paesaggio archeologico della Toscana e anche dell'Italia e dell'Europa, creato per il professore Frankovic, ma ora dirigito per il professore Stefano Campana. Questo laboratorio si è specializzato nell'applicazione di nuove tecniche allo studio del territorio archeologico, come la detezione dei antichi siti per fotografia aerea, voli di drone, tecniche di indagini geofisica e altre tante. Per lo sviluppo del progetto di ricerca ci lavoriamo in diverse fasi. In una prima fase abbiamo cercato tutta l'informazione storica e attuale della zona di studio. Ad esempio, i risultati dei lavori storici e archeologici pubblicati, dei materiali musei, delle mappe storiche e attuali attraverso la visita dei siti come biblioteche, musei, archivi. Dopo abbiamo pianificato i lavori delle indagini archeologici sul campo e laboratorio e siamo andati in Spagna a cercare e referenziare nello spazio tutti i materiali archeologici che si trovano in superficie, con un quaderno e un GPS. Questo, come vedete, è un ardo lavoro perché si fa in estate quando raccogliono le coltivazioni. Fatto questo, i principali materiali raccolti si analizzano in laboratorio, si classificano e si misurano, disegnano e fotografiano, per ottenere una funzionalità e una cronologia del sito studiato. Anche sul campo raccogliamo altri dati con tecniche no invasive, cioè delle tecniche che non danneggiano i beni culturali e archeologici e non affettano alla sua integrità. come i voli con droni, per ottenere immagine aerea e fare la planimetria del sito. Un'altra tecnica che usiamo è la raccolta dei dati geofisiche. Con un georadar multicanale si escansiona la superficie di un solo e si può ottenere le strutture archeologiche che sono sotterrate senza bisogno di fare lo scavo. Dopo c'è la fase di elaborazione dei dati sul laboratorio utilizzando i diversi software specifici. Ad esempio con le fotografie aeree che abbiamo presso dal drone possiamo fare planimetria dei siti, cioè fotografia dove si può mesurare le distanze e ottenere modelli tridimensionali del territorio. Anche sempre con il drone possiamo scatare delle immagini termiche dove con un sensore che riconosce i diversi livelli di temperatura nel terreno le strutture sotterrate possono riflettere diversa temperatura e anche possiamo detettare strutture archeologiche sotterrate. I risultati dei georadar li lavoriamo attraverso il disegno delle tracce e possiamo trovare diverse strutture come mure, antiche casse, pavimenti. Anche lavoriamo con i risultati dei materiali registrati sulla superficie del terreno e dove troviamo una concentrazione possiamo parlare di un sito archeologico. Alla fine tutti i dati si analizzano e si danno risposte alle questioni storiche che ci sono messe all'inizio del progetto. Scriviamo degli articoli scientifiche in rivista internazionale e anche andiamo in convegni specializzati per mostrare i risultati agli esperti e discutere. Una altra maniera della diffusione dei risultati è diriggita alla società, al grande pubblico. E si fa attraverso la pagina web, conferenze in eventi di diffusione scientifiche o sui giornali locali. Se siete interessati in approfondire sul progetto potete visitare la pagina web. Ci aspettiamo! Grazie mille per l'attenzione!